Grazie a tutti. In particolar modo le grandi potenze di quello che per il momento è diventato il G7 e non è più G8. Noi lasciamo un attimo le cronache nazionali ed internazionali, ci spostiamo sulle notizie di carattere locale, come sempre lo facciamo partendo dall'inserto del messaggero ostia litorale per andare a vedere quali sono i principali argomenti di oggi. L'apertura è tutta dedicata ai bilanci e ai tagli a sport e cultura per il Comune di Roma. Una bozza di manovra dell'assessore Morgante via 170 milioni dai dipartimenti capitolini. Previste le riduzioni di budget anche per il settore ambiente e quello dei trasporti. Resta però ancora il nodo della Tasi. Saranno appunto la cultura e lo sport le prime vittime di questi tagli. ai dipartimenti contenuti nel bilancio 2014 del Comune. Una cura dimagrante che secondo le cifre contenute nella prima bozza della manovra toglierà almeno 170 milioni alla macchina amministrativa capitolina che potrebbero arrivare fino a 290 a seconda dell'evoluzione delle varie voci. La vera incognita è però quella relativa alla Tasi. Il sindaco ha sempre detto di non voler toccare l'aliquota sulle prime case, il 2,5 per mille, ma aumentarla al 3,3 consentirebbe di portare a casa altri 230 milioni. Riguardo alla Capitale c'è anche un'altra notizia. Si tratta delle proposte della lista Marchini, proposte che sono piaciute anche al primo cittadino. Delle 13 avanzate dall'ex candidato sindaco, 10 sono state accolte da Marino che ha dichiarato questa è l'opposizione che mi piace, un'opposizione piuttosto collaborativa. Si legge infatti anche nel titolo prove di dialogo. 13 proposte di delibera accompagnate da 10.138 firme raccolte dal 30 novembre al 30 gennaio in tutti i municipi della città. Le ha presentate la lista Alfio Marchini in Campidoglio insieme alla campagna Basta farci del male. Presente anche il sindaco Marino che di Marchini ha detto non siamo avversari ma compagni di percorso. Quindi un'apertura a queste proposte e all'eventuale collaborazione tra i due. Cambiamo decisamente argomento dalla politica. Ci spostiamo sulla cronaca. Un ennesimo incidente, questa volta mortale, sulla A12 con il traffico in tilt sulla Aurelia. Due le vittime. Ci sono stati disagi per gli automobilisti diviati sulla statale. Uno schianto di una Nissan che è uscita di strada ed è andata da sbattere contro un albero a perdere la vita. Due pensionati, uno di 64 anni e l'altro di 67. Il traffico è stato deviato per lungo tempo cercando di poter portare i primi soccorsi e ricostruire la dinamica dell'incidente. Per i due uomini purtroppo non c'è stato nulla da fare all'arrivo dei soccorsi ospedalieri. Ancora un'altra inchiesta con un'accusa di truffa aggravata, questa volta per l'ex presidente del consorzio di Casal Palocco. Appunto è stato rinviato a giudizio. Ancora un incidente, se ne torna a parlare, un incidente dei giorni scorsi in cui ha perso la vita una giovanissima, Valentina appena diciottenne, su via Cassia. Sono stati scritti nel registro degli indagati i due motociclisti coinvolti nell'incidente in cui appunto la giovane ha perso la vita nello scorso venerdì. La ragazza era in sella alla moto di un suo amico quando per cause non ancora del tutto chiare ha urtato una Fiat Panda capovolgendosi più volte fino addirittura a spezzarsi. Il corpo della ragazza è finito in mezzo alla strada mentre sopraggiungeva in senso contrario un'altra moto che potrebbe averla urtata violentemente ma è un particolare ancora tutto da verificare. Sono ancora in opera gli accertamenti del caso. Un'altra notizia di cronaca, questa volta si tratta di violenza domestica, mia moglie indemoniata e la picchia a sangue. Volevo liberarla dal diavolo. È posseduta. I pugni e calci alla compagna diceva lui non erano botte qualsiasi, si trattava piuttosto di un esorcismo. Calci e pugni a fin di bene cercava di convincere gli agenti al loro arrivo per scacciare il maligno che si era impossessato della sua donna e l'aveva trasformata in un essere diabolico che faceva paura. In realtà la ragazza si era solo sentita male dopo una notte folle all'insegna dell'alcol, della droga e del sesso ma l'uomo, una guardia giurata, era così alterato da non aver capito che la 22enne aveva bisogno dell'aiuto di un medico e non quello di un esercista. Ovviamente l'uomo è stato arrestato. Ancora un caso di violenza, siamo sempre nella capitale Alessandro. Sì Giulia, da una follia ad un'altra. Dopo la bizzarra storia che abbiamo letto e sconcertante direi poco fa, ne leggiamo un'altra che di pari passo ci lascia sgomenti. Si aggredisce la coinquilina, sfigurandole il volto a colpi di coltello e rasoio. È avvenuto ieri sera intorno alle 23 in via Mandanici, nel quartiere Finocchio. In particolare una cittadina nigeriana trentenne è stata aggredita dalla coinquilina connazionale di 27 anni che la accusava di aver avuto un rapporto sessuale con un uomo di cui lei si era invaghita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Torbella Monaca, portata al Policlinico Tor Vergata. I medici hanno refertato 25 giorni di prognosi e danni permanenti al volto. La coinquilina è stata arrestata per lesioni personali aggravate. E ancora un paio di notizie di cronaca. La prima dal Caffè.tv, un rocambolesco inseguimento nella notte sulla Pontina, all'altezza dello svincolo per raggiungere Borgo Ermada, quindi in direzione latina. L'auto della polizia era da cisterna sulla scia di una macchina con all'interno due cittadini romeni minorenni, il cui conducente era alla guida, senza patente. I malviventi non avevano intenzione di fermarsi e per questo è andato avanti per diversi chilometri un inseguimento che si è concluso con entrambe le auto fuori strada, sia quella della polizia che quella dei malviventi, finita addirittura in una cunetta. Feriti in maniera lieve, tutti coinvolti. I sanitari del 118 hanno provveduto a trasportare agenti e malviventi presso l'ospedale Fiorini di Terracina. Tutti se la sono cavata con una prognosi di pochi giorni. Ancora dalla Capitale, grande raccordo anulare, scontro tra autonferito, traffico in tilt tra Casilina e Appia, rallentamenti sul Gra a causa di un incidente. L'ANAS comunica che sull'autostrada A90, grande raccordo anulare nel tratto compreso, tra gli svincoli Casilina e Appia, in carreggiata interna, si registrano code a tratti per un sinistro. A causa dello scontro una persona è rimasta ferita, al momento si transita in corsia di sorpasso, questo ovviamente nelle ore della tarda mattinata. La circolazione dovrebbe essere ora stata ripristinata. Andiamo anche a dare un'occhiata ad Ostia, cosa è accaduto nelle ultime ore. Un uomo di circa 60 anni è morto nel bagno della sala d'attesa del pronto soccorso dell'ospedale Grassi. A trovare il corpo questa mattina alle 7 circa è stato un addetto alle pulizie dell'ospedale. L'uomo, senza fissa dimora, è stato trovato disteso nel bagno disabili della sala d'attesa, con addosso una copertina e vicino una valigia con effetti personali. Non aveva con sé documenti di identità, forse era entrato in bagno durante la notte chiudendosi dentro, al vaglio degli inquirenti filmati delle telecamere di sorveglianza. Da un primo esame esterno sul corpo non sono stati riscontrati segni di violenza né traumi. A quanto riferito dalla direzione dell'ospedale, l'uomo, un clochar con problemi di alcolismo, richiedeva spesso l'assistenza dei medici del pronto soccorso, dove arrivava senza documenti di identità. L'ultima visita risale a domenica scorsa, sempre per abuso di alcol, sul posto è intervenuta la polizia di Ostia. Questo dunque l'ultimo aggiornamento per quanto riguarda la cronaca. Sì Alessandro, e dal litorale ci spostiamo verso l'interno andando a vedere le notizie dalla prima pagina di Latina Oggi. In apertura il caso del prete definito abusivo, che è in fuga da tre anni, celebrava messa nella cattedrale di Sezze, era stato condannato per pedofilia. Il vescovo allerta i parroci, ma quando arrivano i carabinieri Don David è già sparito. Dal 2011 aveva trovato rifugio all'interno dell'oratorio della cattedrale di Santa Maria, dove era stato accolto da parroci ignari del fatto che se di lui pendeva un decreto di esecuzione della perdita dello stato ecclesiale in seguito ad una condanna per violenza sessuale in danno di minori. Il processo era finito con il patteggiamento della pena dinanzi ai giudici del Tribunale di Fermo. Al momento è ancora in fuga. In taglio centrale la notizia dei giorni scorsi, la maxi grandinata che ha interessato alcune città della provincia Pontina, il maltempo che devasta le culture, la col direttichia dello stato di calamità, una vera e propria tempesta di grandine. Questa è una delle tante immagini che dall'altro ieri circolano sul web e sui quotidiani. Andremo poi ad approfondire anche la situazione, vista la gravità dei danni che è stata riportata dalle culture del territorio. Ancora mafie e al MOF, tutta la verità del camionista pentito. Le rotte dei tir della malavita passavano per il MOF di fondi. Nuove rivelazioni dal pentito di mafia Gianluca Costa. Ancora la cronaca con marijuana in casa, condannati padre e figlio. La guardia di finanza li aveva arrestati dopo aver scoperto più di un chilo di marijuana in casa. Padre e figlio sono stati appunto condannati a tre anni di reclusione. Una notizia di cronaca anche da Nettuno, dove sono stati denunciati in venti per aver tentato di mettersi un rave party nel bosco. Lo preparavano nella riserva naturale di Foglino. 20 giovani deferite per violazione di domicilio e invasione di terreno. Ancora un caso che riguarda Latina. La forestale sequestra la cisterna dei veleni. È stata sequestrata appunto la cisterna dalla quale nei giorni scorsi è fuoriuscita una considerevole quantità di cherosene che ha intasato e bloccato la rete fognaria. L'attività è stata portata a termine dagli agenti del corpo forestale dello Stato. Quindi appunto è stata messa sotto sequestro proprio la cisterna. Risarcimento per Morlando. Un altro caso si chiama Fornia. A Formia la Corte d'Appello ha depositato la sentenza di assoluzione a scontato due anni di carcere per una rapina che in realtà non ha mai commesso. Si parla di rifiuti radioattivi, le tappe verso il deposito e questa un'ulteriore notizia. Ed ancora il calcio. In prima pagina con Latina alla Francioni arriva il Pescara. il turno infrasettimanale in serie Bill. Latina ospita appunto il Pescara per dimenticare i due K.O. consecutivi che ci sono stati. Noi ci fermiamo ancora un attimo per la pubblicità e torniamo con tutti gli approfondimenti del caso, delle notizie che abbiamo trovato nelle prime pagine. a tra poco.